Salve a tutti, vediamo come superare il livello 156 di Brainout. Le prime due parti sono facili, basta osservare il bicchiere dove sta la pallina e si trova facilmente. Idem la seconda, anche se è un po' più veloce. Il problema è la terza manche, se così possiamo dire, perché è a velocità 10. Dobbiamo hackerare il sistema, quindi dobbiamo strofinare lo 0, in questo modo ecco, e poi facciamo continua. In questo modo possiamo continuare a seguire i bicchieri. Ed ecco che finalmente abbiamo trovato la pallina, quindi ricordate l'ultimo è troppo veloce, quindi va rallentato facendo tappe e strofinando sullo 0 per farlo tornare ad 1. Spero di essere stato utile, un saluto a tutti.